Sacchetto per sabbia anti sketch viene utilizzato in tutti quegli ambienti che si intende dare una protezione passiva di una postazione o un edificio una qualunque cosa si voglia proteggere al suo interno viene inserita sabbia o terriccio poi tramite questa fettuccia viene chiuso alla sua sommità passato nell'asola della fettuccia con l'accetto apposito ed annodato il fondo è molto resistente perché ha una cucitura doppia a grosso filo che passa attraverso il sacchetto il quale ripiegato quindi regge un carico notevole